Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Special Olympics so che non sono giorni facili per nessuno, dobbiamo stare in casa però si può fare sport, specialmente voi Special Olympics che siete grandi sportivi potete fare sport perché vi aiuta a stare meglio, si passa il tempo, si sfogano un po' di energie fate sport e mi raccomando che dovete farvi trovare pronti quando poi tutte le attività riprenderanno vi mando un abbraccio e in bocca al lupo per tutto, ciao!